siamo molto amici ecco la Rezzi vivo però c'è Gino Paoli c'è ancora mentre parlavi ci pensavo però lui c'è ancora scusami ma è come se non ci fosse ma come come se non ci fosse è come se non ci fosse perché dorme sempre tutto il giorno so che sta sul divano molto si sta sul divano ma anche quando lo amavo io che stavamo insieme arrivavo dormiva dormiva sempre dorme sempre ma come mai dorme sempre? dove lo appoggi dorme sarà contento di sentire questa cosa? cioè sempre dormito? è uno che ha dormito molto e altro anche molto non parliamo più di lui basta anch'io sono d'accordo grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti